Le palazzine di Panzano faranno da apripista per un progetto di riscaldamento geotermico che una volta realizzato potrebbe essere una vera rivoluzione per interi quartieri di Monfalcone come Marina Iulia e per strutture come la piscina comunale. Si tratta di un sistema di riscaldamento funzionante a energia termica. Le palazzine di Panzano saranno dotate di una sonda che andando in profondità sotterranea pescherà il calore geotermico e lo trasferirà nell'abitazione o all'acqua da scaldare in inverno. Viceversa in estate assorbirà calore dell'abitazione e lo trasferirà al terreno. Si tratta di un sistema collaudato per cui esistono già incentivi al 50% da parte dello Stato e che è diffuso specialmente nel nord Europa. Garantisce energia termica gratuita, eccettuato il consumo elettrico della pompa di calore e indipendente dalle temperature esterne. I costi di esercizio sono inferiori di circa il 60% rispetto a un sistema di riscaldamento con caldaia a metano, non richiede manutenzione particolare e contemporaneamente contribuisce alla riduzione delle emissioni di inquinanti e di CO2 in atmosfera e non inquida i terreni. Per l'opera il Comune ha chiesto alla Regione Friuli Venezia Giulia un finanziamento nell'ambito del PORFERS 2007-2013 impegnandosi a garantire il 23% della somma richiesta, ovvero 55.200 euro. Grazie a tutti.